Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Battlelands Royale per un nuovissimo episodio Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo, oggi è mercoledì 6 febbraio, sono le ore 14 e sono online pronto a giocare con voi Come potete vedere ragazzi è iniziata la Season 4, finalmente io ho acquistato come sempre il Season Pass, infatti mi hanno già regalato una nuova skin Adesso ragazzi vado a prepararmi e ci vediamo nel primo match di oggi Va bene ragazzi eccoci qua nel primo match di oggi Giochiamo di nuovo nella mappa del deserto Dove caspita è atterrato il mio compagno di squadra? Ok vedo che è già eliminato qualcuno Fammi vedere che cos'è che hai di arma Eh la mitraglietta, vabbè faccio che prendere questa Hai dimenticato lo scudo? Hai dimenticato lo scudo? Ragazzi non correte tanto perché tanto per vincere dobbiamo giocare insieme Se no uno da solo difficilmente riuscirà a portare a casa La vittoria nella modalità squadre Allora aspettate No guardalo Ah via 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 Ok Bravo Però scappiamo Ti aspetto qua eh Perché io se no rischio di andare giù Eh non ho praticamente più vita Non ho praticamente più vita e ci sono già degli altri giocatori No ci conviene cambiare direzione Perché dobbiamo assolutamente prima Trovare un medikit Ok ci siamo ribeccati Mi sono preoccupato un attimo quando ho visto che non mi seguivi Qui c'è gente E' pieno di gente però C'è veramente tanta gente E non ci sono medikit Purtroppo non ci sono medikit Vedo solo armi E' bellina però la nuova mappa eh Comunque Eh attenzione Io ci lascio le penne Io ci lascio le penne Niente purtroppo è finita così Non siamo riusciti a trovare i medikit Se magari trovavamo un medikit Riuscivamo a portarla a casa Va bene ragazzi Nuovo match Perfetto Non ho capito perché Il mio compagno di squadra Ha cambiato Punto d'atterraggio all'ultimo Allora Ho trovato soltanto un fucile da cecchino Eccolo Voilà L'hanno già Silurato Uno è andato giù Questo me lo prendo Geniale il ragazzo Ho tentato di Vai giù No non l'ho preso mai Vabbè E' pieno di gente Quindi scappiamo Anche perché sono Abbastanza in fin di vita Allora Vediamo se riesco a combinare Qualcosina Questa armetta Me la prendo Per fortuna Eh vabbè Però C'è gente ovunque Hanno deciso Tutti quanti Di atterrare In questa zona A me Sembra che Abbiano ridotto I medikit Perché se guardate Non ce n'è Neanche uno Abbiamo visto Quelli là Piccolini All'inizio E basta Devo vedere Se riesco A strapparne Almeno uno Andiamo a vedere Dentro la stalla No Non c'è niente Di interessante Pensavo di trovare Fantastico Mi hanno fatto Una bella Trappoletta Ok ragazzi Eccoci qua Allora C'è già Un altro Tipo Bello Ha preso Le munizioni E ha lasciato Qua l'arma Fantastico E sta scappando Come se non ci fosse Un domani Guarda C'è un altro Scudino qua Ecco I medikit Saltano fuori Adesso Che non ci servono Fantastico Pieno di medikit Guardate che roba Quattro In una zona Piccolissima Prima che ci servivano Non ne abbiamo trovato Neanche uno Baule Vabbè Prendo questo Prendilo Scudino Prendilo Se mi fermo Ragazzi Intervenite Bravo Perché comunque Io ne ho già uno Prendi quelle Perché comunque Le munizioni Del fucile A pompa Vanno via Come il pane Siamo rimasti In dieci C'è gente Qua dentro Perfetto Ne arriva Un altro Ok Caspita Sono in fin di vita Aspetta 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 Non spostarmi Però Ecco Adesso che mi serve Un medikit Non lo trovo Ma neanche Ah È pieno di gente Ok È andato giù Anche lui Se riusciamo Eh no Però Hanno sempre Solo Munizioni Siamo fuori Dalla safe Però Oh Meno male Via 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 Voglio rientrare Se no Poi sono Daccapo Siamo rimasti In otto Oh mamma Sento gente Che si scanna Tantissimo Ah Oh Aspetta che mi Per il figlio Questo Dai Ce l'avevo Fallo fuori Ti prego Fallo fuori Ah Niente Perdiamo così Non ci credo Non ci credo Era vinta Sta partita qua Era vinta Ragazzi Era vinta Va bene ragazzi Riproviamoci va Prima avevamo Praticamente vinto Bastava tirare giù Quello con La mitragliatrice Pesante Ed era fatta Eh vabbè Dai Ci rifaremo In questo match Non importa Prendete Prendete sempre Un'arma Anche se magari È la più brutta Del mondo Però prendetela Perché vi può tornare Molto utile Per colpire Almeno i nemici Dalla distanza Ma io non capisco Ma Non capisco Perché la gente Si nasconde Dentro gli edifici Vieni 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 Fammi vedere Prendi questo Va Ok Procediamo Questo scudo Lo piglio io Il prossimo È tuo È meglio Se prendi Questa Mitragliatrice Qua Comunque Ok Così siamo Più devastanti Prendi Quella Perché così Puoi fare Più danni Vediamo Se il tipo Entra Dai Anche Anche i razzi Arrivano Fantastico Perché Perché hanno sempre Tutto questo scudo Ok però Ma perché Arriva gente Adesso Ah no Era un drop Era un drop Ok Meno male Mi servirebbe Mi servirebbe Mi servirebbe un medikit Siamo rimasti in 4 Allora Siamo rimasti in 4 Non possiamo perdere Perché non è partito Ah ok Aspetta che prendo questo Siamo rimasti in 3 Non facciamoci fregare Non facciamoci fregare Perché questa è praticamente vinta Solo che vorrei capire dov'è l'altro giocatore È finita Probabilmente era in mezzo alla tempesta Meglio così Non potevamo perderla sta partita Non potevamo assolutamente perderla Va bene si parte Altro match Allora Il mio compagno di squadra Sta atterrando A chilometri di distanza Via 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 Dai ma perché mi devi correre dietro Ok Allora Cerchiamo di raggiungerlo Già che ci sono Faccio che prendere delle munizioni Speriamo riesca a raggiungermi Ok lo vedo Sta arrivando Cos'è che ha in mano Non riesco a capire se ha in mano un pacificatore No fucile da cecchino Beh può andar bene dai Più che altro perché È abbastanza devastante come arma Nel senso che toglie tanto ad ogni colpo che va a segno Ok perfetto L'ha cambiata Non appena l'ho detto Ehi il cavaliere Da dove salta fuori Ehi la cavaliere No Bravo Tirami su Dai fermo Bravissimo Sparagli 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 Bravissimo Tu prendi quello Io mi prendo questo Ci sta andando abbastanza di lusso Ci sta andando abbastanza di lusso Ok andati Andato anche lui No non sparare Ti sei preso tutto lo scudo Potevi lasciarmi qualcosina però eh Almeno lasciami il medikit Che sta sparando lì Dai che sono fermi Dai che sono fermi Niente Mi hai di nuovo portato via anche le munizioni No Stiamo sparando un po' troppo a caso Eh Siamo andati giù tutte e due Vieni a recuperarmi Sparagli però nel frattempo Ok grazie Ok andati giù Bravo Ce l'abbiamo fatta Bella partita Diciamo che Avremmo potuto Dividere meglio l'equipaggiamento Però l'importante è aver portato a casa una bella vittoria Va bene ragazzi Eccoci tornati nel menu principale di Battlelands Royale Gran belle partite Abbiamo portato a casa due vittorie Facciamo due vittorie e mezza Perché comunque Nella partita dove siamo arrivati i secondi Per poco non portavamo a casa la vittoria Come sempre ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto Mi raccomando lasciate un bel mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale E ci vediamo in un prossimo episodio Sempre qui su Battlelands Royale Alla prossima ragazzi E ci vediamo in un prossimo episodio